Buongiorno dal telegiornale del Friuli Venezia Giulia. La situazione in Valcanale nel Canal del Ferro è drammatica. Ieri c'è stata l'alluvione e ha smesso di piovere, ma buona parte della zona colpita rimane isolata. Due sono le vittime accertate, ma molte persone continuano a telefonare alla protezione civile perché non riescono a contattare telefonicamente quanti stanno al di là delle frane. Quindi non si sa ancora esattamente quanti sono i dispersi. Le strade che portano in Austria sono nel caos. Io sono Paolo Cuhanzi. Sono in più di fronte. Io sono qui, a l'arrivo, in cui io sono in un po' più, io sono qui viveva di circa circa 30 anni, non sono ancora vodne giverte, in quanto è arrivato a uscita, in un'altra zona, 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 e ho fatto un'estisca di giovani, poi ho fatto un'estisca di niente. E poi, in due anni, ho fatto un'estisca di giovani, e ho fatto un'estisca di un'estisca, e ho fatto un'estisca di un'estisca. Poi, in poi, ho fatto un'estisca di giovani, poi, in poi, ho fatto un'estisca di giovani, poi, in poi, ho fatto un'estisca di tra questo, poi, in poi siamo orciati a guardare il nord del Mašenico, guardati, per quanto è il piede, dopo il mio non è un'escazione, poi, in poi, sono orciato in questi stessi, in poi, in poi, sono orciato in questa strana, e l'escazione in questa strana. il rilevo sulla terra, ci sono all'interno di materiale, ricordare, la ricetta, ciò che ho provato. Alla si è andato, a partire qui, a partire la terra, l'arrivo e arrivò il pietro. Il rilevo a un po' di un'esplice, e sono stati estando in riuscita, e sono stati andati per la terra. E si è andato, in cui si è andato un po' di 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 più. Quando siamo venuti a l'injano, in l'injano stai chiamato in l'injano. Poi essenziali siamo venuti in un'altra sera. Vedi un'altra sera, l'escrivo, i ci sono ripetati. In questo è stato saltato da fuori, dove vedi l'escrizione e come c'è. È venuto in un'altra sera, in un'altra sera, vedi, in un'altra sera. Pesantissimo il primo provvisorio bilancio dell'assessore regionale alla protezione civile. Al termine di una ricognizione aerea della zona della Val Canale e del Canal del Ferro, a ridosso con l'Austria, parla di almeno 500 milioni di euro di danni. Il comune più colpito è Malborghetto, la sua frazione Ugovizza è interamente sommersa da ghiaia e fango. Invaso dalle acque del Fella è il comune di Dogna, centinaia gli sfollati, mentre il calcolo dei dispersi è ancora difficile.